In un precedente video abbiamo già parlato di tutte o quasi le nazioni presenti o anche solo menzionate nell'universo di Fallout. Per chi non lo avesse visto lascio come sempre il link in descrizione, ma oggi ho pensato che sarebbe stato interessante parlare della lore legata a ogni singolo stato degli Stati Uniti Prebellici per capire anzitutto dove sono situati la maggior parte degli insediamenti, quali sono gli stati che non appaiono mai ma sono solamente menzionati e di quali invece non si ha minimamente alcun accenno in tutti i capitoli di Fallout. Non mi concentrerò dunque nello specifico solo sulle singole città come New Vegas, Washington e Boston, quasi per nulla menzionate in questo video proprio perché saremo abituati a viverle in prima persona nei diversi titoli di Fallout, ma mi concentrerò invece sugli stati attraverso uno sguardo d'insieme più generale. Se non sei ancora iscritto al canale ti invito a farlo e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti di lore legata ai titoli come Fallout e prossimamente Starfield ma non solo. A condividere il video e a lasciare un like di incoraggiamento. E ora iniziamo! Anzitutto è bene partire da un concetto basilare. I singoli stati americani che noi tutti oggi conosciamo in Fallout non esistono più. Infatti nel lontano 1969, più di un secolo prima della Grande Guerra, il governo americano varò una legge che trasformò e riconvertì i 50 singoli stati americani in 13 Commonwealth, ovvero delle macro aree, idea che venne in mente ai primi sviluppatori di Fallout che non desideravano utilizzare la classica bandiera americana ma introdurne una nuova ed inedita nel gioco. I Commonwealth sarebbero dovuti essere più efficienti e unire maggiormente il paese nei secoli a venire, dando allo stesso tempo maggior potere al governo di Washington, ma tale decisione non fece altro che aumentare i poteri dei singoli governanti, dei Commonwealth, indebolendo quindi sempre di più il governo centrale americano negli anni. Attenzione però, non dobbiamo farci trarre in inganno da Fallout 4, che parla genericamente della zona denominata Commonwealth, riferendosi in realtà alla macro area degli stati del Maine, del New Hampshire, del Vermont, del Connecticut, del Massachusetts e di Rhode Island. Questi stati vennero infatti racchiusi nel Commonwealth del New England, la cui capitale molto probabilmente era la stessa Boston, che ritroveremo in Fallout 4, oltre che essere la località più conosciuta e più abitata. Non conosciamo il motivo che indusse gli sviluppatori di Fallout 4 a rinominare questa zona semplicemente come Commonwealth. Per quanto riguarda lo stato del Massachusetts, è importante notare che in Fallout 3 la nave madre del DLC Mothership Z, rapì un prigioniero nato addirittura nel lontano 1697, nell'allora piccola cittadina di Salem. Conosciamo bene Salem, anche perché apparirà come location in Fallout 4, anche se la cittadina risulterà disabitata, se non fosse per Barney Rook, un carciatore di Myrelurk che cerca di sopravvivere alla loro continua invasione dell'area. Oltre alle diverse cittadine ritrovabili in Fallout 4, come ad esempio Quincy, Lexington, Concord e Boston, sulle quali non ci soffermeremo in questo video, un'altra località conosciuta di questo Commonwealth prebellico è l'isola di Far Harbor. Tale isola appare e viene citata solo nell'omonimo DLC di Fallout 4 e consiste nella reale isola di Mount Desert, nell'attuale stato del Maine. Sebbene non sia stata colpita direttamente da alcuna bomba nucleare, sull'isola alleggia una strana nebbia radioattiva che provoca allucinazioni e si dice faccia impazzire le persone. Per questo, al nostro arrivo, l'isola risulterà in gran parte disabitata. Si tratta, per quel che ne sappiamo ad oggi, del luogo più a nord conosciuto ed esplorabile in tutti i capitoli di Fallout, situato a pochissima distanza dal Canada e da Ronto, città solamente menzionata. Conosciamo il Maine solo per la location di Far Harbor e per la produzione della famosa bibita locale chiamata Vim Pop. Sappiamo infatti che gli abitanti di tale stato, prima della Grande Guerra, la consideravano una sorta di bibita tradizionale ed era molto in voga per tale motivo, anche più delle rivali Sunset, Sarsaparilla e Nuka Kola. Inoltre, i dipendenti della grande fabbrica dell'isola di Far Harbor, poco prima della guerra, stavano cercando di realizzare una nuova bibita proprio per celebrare lo stato del Maine, la quale avrebbe dovuto avere il cosiddetto sapore del Maine. In ogni caso, se sei interessato a questa storia, troverai in descrizione a questo video il link della storia della Vim Pop. Il Parco Divertimenti di Nuka Ward è l'ultima località conosciuta di questo Commonwealth, situata in una zona al confine tra il Connecticut e il Massachusetts, tra Springfield e Hartford, probabilmente posto strategicamente ad equa distanza tra Boston e New York. Per quanto riguarda il Connecticut, salvo il Parco di Nuka Ward, posto in una zona comunque imprecisata dello stato, abbiamo solo alcune menzioni. In Fallout 76, Gilbert Hobson ci narrerà di essersi recato in Appalachia dopo un viaggio dalla sua vecchia casa, situata a Monroe, paese nella periferia di New Haven, in Connecticut. Nel terminale delle West Avery T-States, in Fallout 4, un tizio di nome Ames ha riferito di essere in viaggio in autostrada in Connecticut quando sono esplose le bombe e dopo aver abbandonato la sua auto, lui e la sua famiglia hanno impiegato più di una settimana a ritornare a Boston dopo aver visto cose che pensava non potessero mai verificarsi sul suono americano, probabilmente riferendosi a esplosioni, morti e radiazioni. Sappiamo poi veramente poco o nulla della storia dei luoghi situati in altri stati di questo Commonwealth. Del New Hampshire abbiamo solo vaghi riferimenti ad una società prebellica chiamata NHAM, il cui nome prenderebbe spunto sia dallo stato del New Hampshire che dal Massachusetts. Si trattava di una società di trasporto ferroviario che probabilmente univa proprio i due stati limitrofi e in Fallout 4 ritroveremo spesso molti dei loro vagoni merci, alcuni ancora pieni di oggetti, armature atomiche e munizioni. Tale grande azienda aveva collegamenti ferroviari con il deposito della polizia di Boston, ad esempio con la stazione di Oberland e con la stazione di Bedford, ma probabilmente questa azienda si era estesa anche al di là dei due stati citati, tanto che alcuni container recanti questa scritta potranno anche essere ritrovati in Appalachia in Fallout 76. Rhode Island e il Vermont, invece, sono i due piccoli stati relativamente a sud di Boston e a nord, ma non sono mai stati menzionati in nessun capitolo di Fallout. Il Commonwealth orientale comprende invece gli stati di New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware e della nostra amata o odiata West Virginia. Andando per ordine però, qui forse la città più interessante è proprio New York e qualche piccola informazione su di essa la abbiamo e come. Storicamente New York City era il quartier generale delle Nazioni Unite che vennero sciolte prima della Grande Guerra nel 2052. La Bibbia di Fallout, seppur ritenuta ad oggi in parte non canonica, afferma che nel 2065 un grande reattore nucleare che alimentava l'intera città di New York City entrò in livello supercritico e non riuscì più a sostenere la richiesta di elettricità dei suoi oltre 17 milioni di abitanti. E sebbene non si crearono danni a cose o persone causò comunque un enorme blackout e conseguente il razionamento dell'energia elettrica in città per diversi mesi, tanto da lasciare al caldo tutta la sua popolazione per diversi mesi estivi. Questo ci fa capire che la megalopoli fino al 2065 esisteva ancora e non solo, si era ingrandita enormemente rispetto ai suoi attuali 8-9 milioni di abitanti, continuando a rimanere il centro della vita politica, economica e sociale di tutti gli Stati Uniti. Rimase dunque un importante centro di cultura e commercio fino all'olocausto nucleare. Dean Domino in Fallout New Vegas si vanta di essersi esibito più volte a New York, mentre Johnny Winston ha intrapreso lì una carriera da attore fallimentare. Wall Street rimase un importante centro di compravendita di azioni e a livello locale la squadra di baseball della città aveva una rivalità di lunga data con quella della città di Boston. New York City, inoltre, potrebbe essere stata citata anche in Fallout 4. In un olonastro vuoto, un membro della confraternita d'acciaio della zona narra il loro arrivo in città e racconta in parte il viaggio del dirigibile Pridwen, ricordando il volo sopra grandi città americane distrutte, alcune delle quali erano così alte che gli stessi membri della confraternita temevano che potessero toccare il Pridwen mentre le sorvolava e distruggerlo. Oltre a Boston, punto di arrivo della confraternita, e Washington, punto di partenza, il dirigibile attraversò le città desolate di Baltimore, Philadelphia e la stessa New York, anche se non sono mai state citate direttamente nel gioco. Infatti, si fa riferimento solo ad alcuni edifici estremamente alti, ma visto l'enorme aumento di popolazione della città, è probabile che tali membri si riferissero proprio alla città di New York City nei loro resoconti di viaggio. Dunque questo farebbe cadere le certezze di molti fan di Fallout che credono che New York City sia stata bombardata al punto che ormai non esista più nulla. Questa teoria non sembra essere supportata da alcuna fonte, in realtà, inclusa la Bibbia di Fallout, e se non venne rasa al suolo la stessa Washington DC, che in Fallout 3 ha ancora abbastanza edifici, strade e luoghi abitati sopravvissuti alla guerra, nonostante fosse però la capitale americana e dunque l'obiettivo più ambito di una guerra, beh, credo che anche New York sia sopravvissuta in qualche modo, seppur ormai in rovina e abbandonata. Ricordiamo infatti che in una guerra atomica non sono la potenza e il numero delle bombe in sé a distruggere le città, ma le radiazioni che esse generano. Dunque la Cina non rase al suolo intere cittadine americane, salvo qualche caso sporadico, e non lo fecero nemmeno gli Stati Uniti con le loro bombe, ma il vero motivo dell'estinzione del genere umano e della scomparsa di intere nazioni e governi fu dovuto all'enorme numero di radiazioni sprigionate da queste bombe, che uccisero nei giorni, nei mesi e negli anni successivi al conflitto miliardi di persone non solo in Cina e negli Stati Uniti. Ma, piccola digressione a parte, mi sembra ovvio sottolineare che New York City, una tra le città più importanti degli Stati Uniti, avrebbe comunque avuto un certo livello di infrastrutture e difese atte a sopravvivere alla guerra, un po' come le aveva New Vegas di Mr. House. Inoltre, in una immagine mostrata all'interno del canonico titolo di Fallout Tactics, si nota la città di New York subito dopo le bombe, con alcuni grandi palazzi sullo sfondo in fiamme ma non distrutti, e con la popolazione che cerca di fuggire in preda al panico e di depredare negozi abbandonati. Tuttavia le notizie su tale zona sono discordanti. Se si analizza la trasmissione di emergenza di Fallout 4, si può notare che sono stati confermati diversi attacchi nucleari verso città come New York, Washington, Boston e Philadelphia. Essendo una delle città più importanti degli Stati Uniti, New York è comunque stata una dei principali obiettivi della Grande Guerra ed è stata colpita da più armi nucleari. La distruzione fu abbastanza significativa, tanto che i comandanti militari sopravvissuti considerarono la città persa per sempre, e prendendo il caso proprio della città di Philadelphia, nell'ex stato della Pennsylvania, una delle più grandi città della costa orientale, poco distanti dalla Grande Mela e situata sempre in questo Commonwealth, sembra che sia stata una delle prime ad essere bombardata dai cinesi e rasa al suolo. In Fallout 3, Abraham Washington si è imbattuto in un viaggiatore proveniente dalle rovine di Philadelphia, che lo ha incaricato di recuperare la Campana della Libertà, simbolo della rivoluzione americana, ma non si sa se la campana sia sopravvissuta alla Grande Guerra o meno. Sappiamo anche che Yasmin Chaudhuri, un alleato per il camp di Fallout 76, si è trasferito da Philadelphia dopo la Grande Guerra in Appalachia, ma non ci fornirà ulteriori dettagli sulla zona, purtroppo. Non si sa molto di più della città di Philadelphia, ma non sembra che fosse inabitabile dopo la Grande Guerra. Spostandoci più ad ovest, un'altra città di cui conosciamo molte informazioni, situata sempre in questo Commonwealth, nell'ex stato della Pennsylvania è ovviamente Pittsburgh, o The Pit. Anch'essa, sopravvissuta alla Grande Guerra, è controllata dagli schiavisti fanatici e invasa poi dal morbo che mutò molti uomini in Trogg. Inoltre, ai confini della Pennsylvania è situato Raven Rock, la base militare segreta in possesso dell'enclave che potremmo ritrovare in Fallout 3. Molti abitanti del villaggio di Foundation, in Appalachia, testimonieranno di provenire da alcune zone della Pennsylvania e in maggioranza da Pittsburgh, come ad esempio Aubrey William, mentre invece conosciamo anche diverse aziende che avevano la loro sede principale in Pennsylvania, come la Holland Chase Concrete Company, la Pittsburgh Union Steel Company e la Ticket Excavation, che collaborava attivamente con molte aziende locali della Pennsylvania. L'ex stato del West Virginia ha ovviamente una storia lunga e dettagliata, poiché è il luogo di ambientazione del più recente titolo di Fallout 76 e per questo motivo non analizzeremo dettagliatamente tale zona, anche perché ho analizzato tutta la storia di Fallout 76 in due precedenti video che trovate comunque sul mio canale. Tuttavia l'inquadramento della zona denominata Appalachia all'interno del sistema dei Commonwealth degli Stati Uniti Prebellici non è ad oggi molto chiaro in realtà. Una voce rinvenuta all'interno di un terminale fa riferimento al fatto che Watuga, città posta all'estremità dell'Appalachia, si trovasse in un Commonwealth senza specificare però il suo nome. La regione viene perciò chiamata con molti nomi diversi all'interno di Fallout 76, creando anche diversa confusione, con molteplici varianti. La più comune è Territorio dell'Appalachia, presente su alcuni manifesti elettorali per l'elezione del senatore di questa zona, il che andrebbe a riscrivere e non di poco la questione dei Commonwealth prebellici, ma in assenza di altre prove e informazioni ci limiteremo a includerla canonicamente nel Commonwealth orientale. E dunque, per quanto riguarda quest'area che abbiamo esplorato a lungo ed in cui gli sviluppatori hanno deciso di inserire fin troppi contenuti, a mio avviso, è interessante notare fin dall'inizio che non è stata colpita così duramente come molti altri grandi centri industriali e centri abitati del Commonwealth orientale. Come ho spiegato più volte in precedenti video sulla storia di Fallout 76, l'ex stato del West Virginia era prevalentemente montano e molto povero, abitato per lo più da contadini e montanari, con centri abitati di pochissime persone. Non c'era per questo motivo bisogno di sprecare delle preziose testate nucleari che vennero destinate verso altri centri più importanti. Tuttavia, quel che non sapevano i cinesi era che il governo americano aveva installato in totale secretezza dei silos nucleari automatizzati. E seppur in alcune zone appalachiane troveremo anche alcune basi dei servizi segreti cinesi, essi non erano a conoscenza della loro ubicazione e dunque non avrebbero mai saputo con certezza quale luogo del Commonwealth orientale colpire con le loro testate per distruggere questi silos. In ogni caso sembra che una bomba nucleare cadde effettivamente in queste zone, in particolare nella zona tra il West Virginia e la Pennsylvania, forse vicino a Pittsburgh, in cui troveremo livelli di radiazione estremamente elevati e gli abitanti originari parlano nelle loro testimonianze di un grande calore che pervadeva l'area della città industriale subito dopo l'apocalisse atomica. Ciò potrebbe essere correlato anche alle notizie confermate che abbiamo di diverse esplosioni di bombe atomiche negli stati della Pennsylvania e di New York, soprattutto dal telegiornale americano che compare in Fallout 4. Tornando nel dettaglio invece al stato del West Virginia, qui sappiamo che vennero condotti diversi esperimenti sotterranei alla ricerca di ultracite, anche utilizzando testate atomiche e dunque gran parte delle radiazioni e delle mutazioni derivarono da questo tentativo americano di ottenere sempre più risorse minerali dal sottosuolo del riempiegare negli ultimi anni della guerra in Alaska. Dunque questa zona nel mondo post bellico avrà molte meno radiazioni delle altre del Commonwealth orientale e ciò ha portato anche un certo numero di persone a trasferirsi nel West Virginia e in generale nelle aree interne americane per sfuggire all'apocalisse atomica a Washington e in generale in tutta la East e la West Coast. Non sappiamo nulla invece per quanto riguarda lo stato del Delaware, mentre nel New Jersey sarà ambientata per la prima volta la nuova spedizione di Fallout 76, precisamente nell'iconica Atlantic City. Trattandosi di una spedizione probabilmente l'esplorazione non sarà quella tipica di un DLC di Fallout, cioè completa e con tante missioni da fare, e questo devo ammetterlo mi dispiace molto, tuttavia avremo modo di provare la tipica ambientazione marittima della città con tanto di casino e località balneari semidistrutte, con a quanto pare anche una nuova forma di ghoul avvolto dalle alghe. Procediamo al prossimo Commonwealth, ovvero il Columbia Commonwealth, che comprende Washington, lo stato del Maryland e della Virginia. Washington è ovviamente l'ambientazione di Fallout 3 e conosciamo tutti la situazione della zona in questione, ma in Fallout 3 non abbiamo solo l'ambientazione dello stato della capitale Washington, bensì anche tante altre cittadine situate nell'attuare Maryland, come Germantown, Oasis, Paradise Fall e molte altre minori. Inoltre anche il DLC Point Lookout si svolge nel Maryland a causa della vicinanza a Washington DC. Il Maryland è dunque uno stato molto inospitale, le mutazioni e le radiazioni dilaganti hanno impedito alla società di ricostruire villaggi e città prospere, così come è accaduto nella vicina Washington. L'atmosfera cupa e deprimente della zona e la desolazione del terreno rendono l'idea dello stato attuale della vita in Maryland. Stesso discorso per quanto riguarda, perlomeno, la zona a nord dello stato della Virginia, la prima storica colonia fondata dagli inglesi nel Nuovo Mondo in onore della Virgin Queen. Comunità come Handale, le rovine della città di Fairfax, Norfolk e persino la stessa Megaton in teoria si trovano nell'ex stato del Virginia, proprio al confine con il piccolo stato del Columbia, che racchiude al suo interno solo la capitale Washington. Sappiamo dai commenti di alcuni dei personaggi dell'universo di Fallout che la Virginia è stata colpita molto più duramente rispetto alle zone montane del West Virginia, oppure del Maine. Tuttavia, nel tempo la zona è stata lentamente ripulita. Così come il West Virginia, in Virginia è stata creata ed è attualmente operante una grande compagnia carovaniera, conosciuta con il nome di Blue Ridge Caravan Company, che è stata in grado di stabilire un controllo commerciale pressoché totale, rendendo sicura parte della zona contaminata e ripulendola. Il Commonwealth sudorientale comprende gli stati della Carolina del Nord, Carolina del Sud e la Georgia. La stessa Carolina del Nord non è menzionata granché in Fallout. Il Museum of Technology di Fallout 3 accenna alla storia di un velivolo che ha sorvolato Kitty Hawk. Nella Carolina del Nord. Nella simulazione della battaglia di Anchorage possiamo notare che molti distributori di prodotti sanitari sono stati realizzati nella cittadina di Charlotte, situata nella Carolina del Nord, dalla Lee Rapid Pharmaceutical. La cosa interessante di questi distributori di salute è che vengono mostrati solo nella simulazione di Anchorage e non è noto se questi riflettessero dei veri prodotti curativi o se fossero semplicemente il modo della simulazione di aumentare la salute del personaggio. Un gruppo di superstiti provenienti da Charlotte nel dopoguerra non vedeva di buon occhio i ghoul e in particolare Penelope Hornwhite, una scienziata che prima della Grande Guerra ricopriva il ruolo di dirigente operativo della Hornwhite Industrial e poi si trasformò in un ghoul senziente. Penelope fu obbligata a indossare un passamontagna per mascherare la sua identità quando viaggiava con loro ma alla fine fu smascherata e fu costretta addirittura a lasciare la città, secondo le informazioni che abbiamo dal suo terminale in Fallout 76, dunque possiamo immaginare che in questo stato troveremo comunque una società fortemente razzista e xenofoba. La Carolina del Sud è ancor meno presente in Fallout e l'unica veravenzione dello stato in questione è presente nel DLC di New Vegas Lonson Roads, dove si può osservare che sulla confezione della MRE, cioè l'abbreviazione di meal ready to eat, ovvero una reazione da campo altamente nutriente destinata ai militari americani, venne prodotta a Mullins, città presente nella Carolina del Sud. Non si sa molto altro su questi luoghi e anche il destino dello stato della Georgia è in gran parte sconosciuto. Tale stato viene citato solo in Fallout 4, quando dovremo compiere una ricerca per ottenere alcuni cimeli legati alla storia del baseball nell'ex stadio dove sorge Diamond City. Quando troveremo la figurina di baseball di Matt Martag, scopriremo che era originario della città di Atlanta in Georgia. Spostandoci più a sud, il Commonwealth del Golfo, o Gulf Commonwealth in inglese, era costituito dagli stati della Florida, Alabama, Mississippi e Louisiana. Seppur le informazioni sull'Alabama siano assenti in tutti i capitoli di Fallout e quelle sugli stati della Louisiana e del Mississippi siano scarsissime, infatti sappiamo solo che l'iniziato della confraternita palachiana Ellison è nato in Louisiana, prima di trasferirsi in West Virginia. La Florida è invece stata menzionata più volte, soprattutto in Fallout Tactics, gioco a tutti gli effetti canonico a mio avviso, anche se messo in discussione da molti. Dalle informazioni contenute in questo titolo sappiamo che in Florida esisteva un contingente specifico della confraternita d'acciaio e sappiamo inoltre che una delle creature più pericolose in quella zona era proprio il coccodrillo mutante, una specie di Gator Claw che ritroveremo a livello canonico a Nuka World in Fallout 4. Qui sappiamo inoltre che era stato posizionato un GEC, ovvero un kit per la realizzazione del Giardino dell'Eden, cioè un sistema di terraformazione inserito solo in alcuni isolati vault americani per rigenerare il terreno in caso di guerra nucleare. Come è accaduto in West Virginia, nella zona della Palude, sappiamo che questo dispositivo andò fuori controllo a causa dell'esposizione prolungata alle radiazioni del luogo, che modificarono la flora che esso sarebbe andato poi a ricreare. Così che, quando è stato attivato, ha iniziato a generare piante e funghi mutanti in rapida successione. Queste piante mutanti si diffusero poi molto rapidamente nell'area, arrivando a diventare anche carnivori, nutriendosi di animali che mangiavano le loro bacche e i loro semi. Queste piante mutanti rappresentano anche un pericolo per tutti gli esseri umani che attualmente vivono in Florida. Non sappiamo se effettivamente la Florida sia stata o meno bombardata e rasa al suolo, ma in New Eastland, il prequel di Fallout sostanzialmente, poiché sviluppato dagli stessi creatori originari di Fallout e si tratta dunque di un titolo che condivide molte informazioni con esso, la Florida viene drasticamente bombardata, tanto che a causa dei terremoti e dell'aumento del livello dell'acqua, in gran parte venne sommersa e divenne a tutti gli effetti un'isola. In Fallout ovviamente non abbiamo alcuna indicazione di questo strano cambiamento geografico e quindi si tratta ad ogni modo di un'informazione non canonica. Non esistono altre fonti ufficiali o citazioni specifiche per quanto riguarda la Florida, mentre per il Mississippi abbiamo una menzione presente solo in Fallout 4, in una voce di un terminale a Fort Strong. Il Commonwealth del Golfo, a mio avviso, rappresenta una zona veramente interessante che meriterebbe un dovuto approfondimento, magari in un successivo titolo di Fallout, poiché oltre ad essere sostanzialmente una macro area di cui conosciamo poco o nulla, presenta ambienti diversificati ed è posta a molta distanza da tutti gli altri Commonwealth che conosciamo già, e dunque gli sviluppatori potrebbero lavorare con più calma rispetto ad altre zone conosciute, inserendo praticamente qualsiasi cosa all'interno, senza stravolgere la lore dell'intera saga, come poteva accadere per esempio nella zona orientale o occidentale. L'East Central Commonwealth, o Commonwealth centro-occidentale, comprendeva invece gli stati dell'Ohio, Kentucky e Tennessee. Si tratta di una zona praticamente montuosa e collinare, ricca di boschi, simile alla zona più occidentale del West Virginia che siamo abituati a esplorare in Fallout 76, e infatti potremo notare che la cittadina di Point Pleasant di Fallout 76, ritrovo ora dei cultisti dell'uomo falena, si trova proprio al confine con lo stato dell'Ohio e all'interno della loro chiesa, nel tomo delle osservazioni, troveremo citato proprio questo stato come uno dei luoghi principali per l'avvistamento dell'uomo falena. Il Silver Bridge, che nell'universo di Fallout non è mai stato ricostruito al contrario della realtà, è infatti posto sul confine tra i due stati, e permetteva il collegamento via terra verso la più grande città di Columbus, capitale dell'Ohio, di cui non si ha minimamente traccia e menzione in Fallout, pur avendo quasi un milione di abitanti e distando solo due giorni di cammino dalla palacchia. In ogni caso, come ci mostrerà una nota a margine, potremo leggere la targa commemorativa del tragico crollo del ponte che uccise molte persone negli anni 60 del 900, vicenda intrecciata con la storia dell'uomo falena, di cui ne ho parlato approfonditamente nel mio video dedicato a questo strano criptide, che ritrovate come sempre nel mio canale o anche qui sotto in descrizione. Dell'Ohio conosciamo molti piccoli dettagli, proprio grazie ad alcune citazioni, tutte presenti in Fallout 76. Oltre all'avvistamento di criptidi e animali misteriosi, sappiamo inoltre che una famiglia in questo stato venne rapita dagli alieni zetani prima dello scoppio della Grande Guerra. I prodoni con cui commerciava il consiglio di guerra di crater, per evitare zone più frequentate e pericolose, decisero di attraversare proprio l'Ohio prima di arrivare in Appalachia. Orville Town, cittadina dell'Ohio, è menzionata sia in Fallout 76 che in Fallout 4, poiché era la zona dove nasceva la LS Smackman Company, azienda produttrice di prodotti alimentari prebellici. Anche l'iniziato Norland, della prima forza di spedizione della confraternita, afferma di provenire dall'Ohio, il che mi fa sospettare che non tutti i membri della confraternita provenienti, come dicono loro, dalla California, siano stati reclutati sulla costa occidentale, ma che in molti, a causa delle perdite del gruppo, siano stati arruolati dopo nei diversi stati in cui il gruppo era solito sostare prima di arrivare in Appalachia. Inoltre, in Fallout 3 potremmo scoprire la storia di un personaggio di nome Harry Oge, introdotto nel DLC Operation Anchorage, che aveva vissuto parte della sua vita nella città di Cleveland, a nord dell'Ohio. Tuttavia, essendo il DLC basato su una simulazione, risulterà parecchio difficile, come prima, capire cosa sia effettivamente vero e cosa no di questo personaggio. In ogni caso, così come per il West Virginia, durante le nostre avventure in Fallout 76, noteremo che la zona più occidentale esplorabile sulla mappa, corrispondente al confine proprio con l'Ohio, sembra essere incredibilmente verde e immersa nella natura, il che potrebbe significare che l'Ohio non sia stato colpito dalle bombe atomiche cinesi, oppure che qualche kit del GEC sia stato utilizzato e abbia ripopolato l'area di piante e vegetazione, arrivando fino addirittura al confine con il West Virginia. Il Kentucky, invece, è stato menzionato niente meno che da John Henry Eden, presidente dell'enclave di Fallout 3. Ehi ci dirà solamente di aver trascorso parte della sua vita crescendo in Kentucky, il che è ovviamente altamente improbabile, poiché non si tratta di un essere umano in carne ed ossa, bensì di un super computer senziente e superintelligente. E dunque, controllando sul web, ho scoperto che gran parte della storia da lui raccontata potrebbe provenire proprio dall'infanzia di Abraham Lincoln, scelta legata forse al tentativo di renderlo più simile ad un vero presidente americano. Altre notizie su questo misterioso stato le abbiamo da parte di una società nota come Independent Arms Group, che produceva fucili d'assalto e soppressori con sede nel Kentucky, secondo le informazioni che ritroveremo in Fallout 4. Anche per quanto riguarda lo stato del Tennessee, non ci sono molte informazioni. Tuttavia, ultimamente, con l'aggiunta di numerosi personaggi in Fallout 76, molti di essi arriveranno proprio da alcune località e stati limitrofi del West Virginia, e infatti potremo ritrovare un musicista proveniente dalla città di Nashville che descriverà la Palachia come la zona più bella in cui abbia mai viaggiato dopo la Grande Guerra, oltre ovviamente alla stessa Nashville. Questo potrebbe indicare che Nashville e le aree circostanti, o comunque l'intero stato del Tennessee, non sia stato così gravemente bombardato come crediamo. E in effetti, come è accaduto anche per la zona occidentale del West Virginia e per l'Ohio, a giudicare dalla grande quantità di alberi e vegetazione, sembrerebbero essere rimaste forse le uniche zone verdi americane, ovviamente non prive però di radiazioni e creature mutate sparse ormai per tutta l'America. Passiamo ora ad uno dei più grandi Commonwealth, quello del Midwest, che comprendeva prima della Grande Guerra gli stati del Wisconsin, del Minnesota, dell'Illinois, dell'Indiana e del Michigan. E su questi stati abbiamo veramente tanta carne al fuoco, e forse la zona più interessante di tutte è quella attorno alla città di Chicago, ma ci arriveremo tra poco. Informazioni su questo Commonwealth le abbiamo addirittura da un personaggio presente nel primo titolo di Fallout, chiamato John Cassidy, il quale afferma che in queste zone sono presenti enormi e continui tornado, larghi diversi chilometri, e che la zona non è altro che una gigantesca conca di polvere radioattiva in continuo movimento. Questa nube radioattiva continua sembra estendersi anche oltre questo Commonwealth, e avvolgerebbe totalmente tutte le zone attorno ad esso. È difficile sapere se questa descrizione possa essere o meno veramente accurata, o se si tratti di un'esagerazione, fatto sta che siamo davanti ad una fonte canonica. L'Illinois ha poi un posto di rilievo e diverse menzioni in Fallout. Un intero gioco si svolge in questo stato prebellico, ovvero il già citato Fallout Tactics, quindi conosciamo anche diverse storie e fazioni. Attorno al 2162 la confraternita d'acciaio invierà direttamente dalla California diversi gruppi di soldati in armatura atomica nel tentativo di rintracciare e uccidere i resti dell'armata dei mutanti, ovvero l'unità, in fuga dopo la distruzione della base e la morte del maestro del primo capitolo di Fallout. Molti dirigibili su cui viaggiavano i membri inviati persero il controllo e si schiantarono rovinosamente sulle montagne rocciose, forse proprio a causa di qualche uragano o tempesta radioattiva già descritta da John Cassidy. Fatto sta che alcuni membri di un isolato dirigibile riuscirono miracolosamente ad atterrare in Illinois, vicino alle rovine di Chicago. La confraternita d'acciaio che atterrò in questa terra desolata per sopravvivere iniziò a studiare la zona, aiutando le comunità locali e reclutando dagli insediamenti tutti coloro che potessero rimpolpare le fila del gruppo decimato. Nonostante in molti considerano Fallout Tactics non canonico, a mio avviso non è così. Infatti, oltre ad essere stato ufficialmente citato come titolo della saga nel 25esimo anniversario di Fallout sul sito ufficiale della Bethesda, questa parte di storia è stata a tutti gli effetti confermata, tanto che potremo ritrovare alcune citazioni di questo viaggio proprio dalle discussioni private di due membri della confraternita su Fallout 3. Lo scriva Jameson e lo scriva Rothschild, infatti, menzionano un grande combattimento tra confraternita e supermutanti avvenuto tempo prima proprio vicino alla città di Chicago, il che sembra essere a tutti gli effetti una conferma ufficiale da parte della Bethesda degli eventi di Fallout Tactics. Ma non solo, un'altra spedizione della confraternita californiana fu inviata verso est quasi cento anni dopo, nel 2254, con l'obiettivo sia di raggiungere le ruine di Washington, sia di ristabilire il contatto con il capitolo disperso di Chicago, anche se non ci sono poi riusciti, lasciando quindi incerto il destino del gruppo disperso. E, piccolo inciso, tutti coloro che indignati criticavano aspramente la scelta della Bethesda di inserire la confraternita in Fallout 76, creando la storia del gruppo che nel 2104 raggiunse dalla California alla Palacchia, beh, come potete vedere, ha perfettamente senso in realtà, poiché la confraternita non è nuova nell'inviare i propri membri in diverse parti dell'America, fin dai primi capitoli di Fallout, e la Bethesda non ha certo creato nulla di nuovo e non ha stravolto alcuna lore. Tornando comunque a noi, di Chicago si acconferma anche in Fallout New Vegas. Scopriremo che un avamposto dell'enclave sarebbe effettivamente presente vicino alla città, tramite delle informazioni presenti nel DLC Lonsen Roads, ritrovabili nel robot ED-E, il quale risulta essere creato proprio lì e successivamente inviato dal dottor Whitley presso la base a Navarro, in cui si chiede di poter prestare supporto e di riparare il robot. Successivamente però ED-E venne ritrovato e riparato da un ragazzino di nome Tommy, il quale utilizzerà proprio una targa dello stato dell'Illinois per ripararlo. Ed inoltre le passate avventure di Nick Valentine in Fallout 4 lo hanno portato proprio a trasferirsi da Chicago, dove viveva prima insieme alla sua finanzata, a Boston, per assistere il dipartimento di polizia con il caso del noto criminale Eddie Winter. E ancora? Anche nell'ultimo capitolo della saga, ovvero Fallout 76, si menziona Chicago, in particolare in alcune lettere in cui ci si riferisce alla difficoltà avuta da parte di alcuni personaggi a migrare fuori dall'area di Chicago durante la Grande Guerra. Di tale città si hanno due immagini presenti anche nell'introduzione di Fallout Tactics, una relativa all'anteguerra, raffigurante grandi grattacieli, e una postbellica, in cui non tutti i palazzi sono crollati, ma la vegetazione è stata completamente annientata, il cielo è oscuro e privo di vita, e la grande metropoli si è trasformata in una città fantasma. Abbiamo dunque tante, tantissime informazioni su questa zona e sulla città di Chicago, e questo non può che darmi da pensare. Che sia un chiaro riferimento al prossimo capitolo della saga? Chissà. Lo stato del Michigan e la sua città più iconica, Detroit, è menzionato solo in Fallout 4 e in Fallout 76. Detroit è menzionata nella rivista Pistole e Proiettili numero 4, Street Guns of Detroit, ritrovabile sia nel Commonwealth che in Appalachia. Detroit è anche menzionata nelle voci dei terminali dell'Eden Midwest Cinemas, per aver prodotto Roborilla, un robot immaginario di fabbricazione americana, presente in un film in uscita prima della Grande Guerra, intitolato Manzilloid contro Roborilla. In Appalachia, invece, un uomo di nome Johnny Waston non vuole rivelare le sue origini, e accenerà che potrebbe provenire da una città chiamata Detroit. Anche il dottor Solomon Hardy, presente in Fallout 76, proveniva dalla stessa città. Al contrario del Michigan, e più in particolare dell'Illinois, forte di una conclamata storia e luogo di provenienza di diversi personaggi di Fallout, per quanto riguarda gli altri stati del Commonwealth del Midwest, ovvero Wisconsin, Minnesota e Indiana, non si ha invece alcuna menzione nei diversi titoli della saga, il che a mio avviso risulta in realtà molto strano. In ogni caso, un altro grande Commonwealth rebellico, The Plains, ovvero il Commonwealth delle pianure, è costituito da Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri e Oklahoma. Il Kansas costituisce un altro importante stato in cui si svolgeva il già citato Fallout Tactics, quindi ciò mi spingerebbe a considerare le informazioni su di esso canoniche. In ogni caso, ciò che sappiamo sul Kansas è che sembra essere la sede di diverse strutture militari e di una grande fabbrica, forse la maggiore in tutti gli Stati Uniti, della Nuka Kola. Proprio in queste aree iniziò a stabilirsi la confraternita d'acciaio che era migrata verso est, la cui spedizione con i già citati dirigibili precipitò tragicamente, ed il loro obiettivo divenne ben presto aiutare le comunità di Supersity e combattere contro diversi gruppi di perdoni in zona. Il principale nemico di Fallout Tactics, che io considero, insieme al maestro e all'istituto, uno dei più potenti villain di Fallout, era noto come Il Calcolatore, la cui sede era situata nel misterioso Vault Zero, in Colorado, a sud di Denver, di cui abbiamo già parlato in un altro video, che trovate come sempre nel mio canale. Grazie al suo esercito di robot, riuscì presto a espandersi e a comandare le sue forze fino in Kansas, con l'obiettivo di arrivare addirittura fino alla città di Chicago, attaccando tutti gli insediamenti locali per espandere il suo potere e magari riuscire a mettere le mani sulle tecnologie prebelliche ritrovabili nell'antica città, un tempo sede di industrie e aziende importanti. Kansas City, città a metà tra gli stati del Missouri e del Kansas, appunto, è una località ancora viva e prospera dopo la Grande Guerra ed è presente nel già citato Fallout Tactics. Prima della Grande Guerra era un importante sito in cui erano conservate molte testate atomiche e per questo divenne ben presto un obiettivo dei missili cinesi. In ogni caso, sebbene la città sia stata effettivamente colpita da un numero imprecisato di bombe, parte del personale a guardia dei Silos è sopravvissuta sottoterra, ma è stata trasformata in ghoul e ha formato una città sotterranea chiamata Gravenstone. La parte superiore di Kansas City divenne ben presto la base principale del temuto esercito di Gammorin, uno dei supermutanti più potenti fuggiti dopo la disfatta del maestro dalla California. Prima del 2197 i ghoul formarono quindi una comunità pacifica e un culto molto particolare, basato sulla venerazione dell'unica bomba nucleare rimasta intatta nel sito di lancio, che chiamarono Plutonius. Una palese citazione al celebre film Il pianeta delle scimmie, mi viene da pensare. T- divenne il primo leader e vescovo di Graveston, responsabile degli affari religiosi e civili, e intorno al 2198 l'esercito di Gammorin cercò di assaltare Graveston per ottenere la preziosa bomba atomica venerata dai ghoul, i quali si nascosero nella loro cattedrale e chiesero aiuto alla confraternita d'acciaio del Midwest che gli darà una mano a sconfiggere tutti i mutanti in cambio dell'utilizzo della bomba atomica per sconfiggere il calcolatore. Sempre da Fallout Tactics del Kansas conosciamo altre località. Scott City, ad esempio, è una piccola località che intorno al 2198 venne occupata dall'esercito dei robot del calcolatore, venendo utilizzato come prigione per tutti gli umani catturati. Great Bend era la città più grande e il più importante centro industriale prima della grande guerra del Kansas e nel mondo post bellico è diventata una città piena zeppa di rifiuti in cui i suoi abitanti sembrano avere accettato questo status e non si curano molto dell'igiene, conducendo la loro intera vita e nutrendosi nella spazzatura. Troveremo poi Cold Water, città dedita al lusso e al gioco d'azzardo, Junction City, città di medie dimensioni che cerca di sopravvivere alle orde del calcolatore, e infine Newton o Junk City, ovvero l'accampamento principale di un gruppo molto particolare chiamato River, ovvero un culto adoratore della tecnologia. Qui si trovano un grande impianto industriale e una fabbrica della Nuka Cola risalenti a prima della grande guerra. Infine, sempre in Fallout Tactics, troveremo diversi bunker della confraternita stabilitesi in questa zona, ovvero il bunker Epsilon e il bunker Delta. Il Kansas viene menzionato anche in Fallout 76, ma in modo molto secondario. Sappiamo infatti che alcuni cittadini nativi del West Virginia rimasero bloccati in Kansas quando in vacanza caddero le bombe. E anche un altro personaggio di nome Ken in Fallout 76 menziona il Kansas. Si tratta di un abitante del pit, che ha intenzione di trasferirsi lì dopo aver visto aumentare il numero di trogg nella zona, e come da ritorto direi. Nella sua nota si interroga sul destino dei territori dell'Ovest. Scrivendo, non ho mai pensato di trasferirmi a Topeca a prima d'ora, ma diavolo non può essere peggio che qui. E dal momento che non lo incontreremo in nessun luogo di Fallout 76, probabilmente sarà già partito al nostro arrivo a The Pit. Passando al prossimo stato del Commonwealth, l'unica menzione che si ha del Nebraska è quella degli scribi della confraternita in Fallout 3, che descriveranno e mapperanno le diverse postazioni del primo corpo di spedizione della confraternita a partire da Lost Hills fino alla capitale Washington. Nel Nebraska sappiamo che si stabilirono una base presso Lincoln, ma ogni contatto con l'avamposto della capitale fu perso anni prima di Fallout 3 e dunque non si ha alcuna notizia su questo gruppo isolato. Inoltre, alcune lettere trovate a Washington menzionavano la presenza di diversi vault nello stato dell'Oklahoma. In Fallout New Vegas vengono menzionati alcuni centurioni combattenti d'elite chiamati Red Oki Centuria ed il termine Oki sembrerebbe un chiaro riferimento, anche se non confermato, con lo stato dell'Oklahoma poiché con il termine Okiis si indica comunemente qualsiasi persona proveniente o residente in Oklahoma. Questo gruppo d'elite è molto interessante e seppur non si conosca molto di loro sappiamo che essi derivano da una tribù assoggettata da Caesar, la tribù delle rocce dipinte o Painted Rock. Dunque questo potrebbe farci sospettare che il potere della legione di Caesar sia in realtà molto più grande di quel che pensiamo, il quale arrivava fino agli attuali territori dell'Oklahoma postbellico. Il Missouri, invece, è menzionato solo in Fallout Tactics, in modo però molto secondario. Questo titolo, come avrete sicuramente notato, ci fornisce tantissime informazioni sui diversi stati prebellici ed è uno dei pochi, a mio avviso, ad essersi spinto a descrivere così tanto gli altri stati dell'America prebellica, di cui si sa poco o nulla da altri titoli. La città di San Luis è ritratta come una roccaforte di supermutanti in questo titolo, che però, in seguito ad una feroce battaglia, è stata conquistata dalla confraternita del Midwest, che ne ha fatto ben presto la sua base operativa della zona. Sull'Iowa non ci concentreremo molto, poiché viene menzionato una sola volta in Fallout 76, quando si dice che i genitori della dottoressa Constance Nichols provengono proprio da lì. Il Commonwealth settentrionale, invece, era costituito da Montana, Wyoming, North Dakota e Sud Dakota. Per quanto riguarda lo stato del Wyoming, troviamo una menzione molto particolare sul gruppo dei seguaci dell'apocalisse, che incontreremo anche in Fallout New Vegas. Sembra, infatti, che molti membri del gruppo viaggiarono dalla Nuova California fino a stabilirsi in alcuni di questi territori settentrionali. A seconda del modo in cui sceglieremo di completare Fallout New Vegas, se Papacan viene convinto a non aiutare la legione, i Great Cans potrebbero migrare verso il Wyoming dopo essere stati messi sotto pressione dalla potenza bellica e dall'espansionismo della Repubblica della Nuova California. Secondo le diapositive che appariranno alla fine del gioco, se ciò accade, i Great Cans prospereranno molto in queste aree, fino a creare una società stabile e in crescita. Inoltre, dopo la conclusione del DLC Honest Earth, una situazione simile potrebbe permettere ai superstiti della tribù degli Zanna Bianca di rifugiarsi in Wyoming dal Canyon di Zion, anche se in molti moriranno a causa delle basse temperature invernali di queste zone e altri si disperderanno nelle pianure nella successiva primavera. Il Montana è menzionato solo di sfuggita. Sappiamo infatti che qui sorgeva precedentemente, alla caduta delle bombe, una florida e ricca industria di estrazione di carbone, mentre è stato confermato che in queste zone sarebbe presente anche un bunker segreto, appartenente ad un ramo della confraternita d'acciaio. Tale bunker viene citato solo dall'anziano Lion in Fallout 3, ricordando anche l'anziano Patroclus, il capo del bunker della confraternita in questione. Il Sud Dakota viene menzionato dal nostro compagno di avventure McReady in Fallout 4, il quale menziona un magazzino di questa zona, anche se questo è un riferimento che davvero non riesco molto a comprendere. Mentre invece il Nord Dakota sfugge a qualsiasi tipo di menzione nella serie canonica di Fallout. Dunque, passando al Commonwealth successivo, il Commonwealth del Texas, sappiamo che è un'area parecchio grande, ma è composta solo dagli stati del Texas, logicamente, e dall'Arkansas, il che ha un po' meno senso. Sfortunatamente l'Arkansas non ha alcuna menzione nell'universo di Fallout, mentre il Texas ha molte più informazioni di quel che comunemente si pensa. Infatti, se escludiamo il cancellato Fallout Brotherhood of Steel 2 e Fallout Brotherhood of Steel, uscito solo su console nel lontano 2004 e ritenuto quindi ad oggi non canonico, abbiamo parecchie informazioni da tanti titoli di Fallout su questo stato prebellico. Prima della grande guerra sappiamo che una spia cinese, conosciuta con il nome di Shanghai Sully, commise una serie di furti d'auto mentre era in fuga dalle forze dell'ordine americane, dirigendosi poi verso la cittadina di Galveston. È stata identificata successivamente da un addetto ai controlli ed è comunque riuscita a sfuggire su un motoscafo. Tuttavia, la USS Wade ha aperto il fuoco su di lei, distruggendo la barca e uccidendola. Sappiamo inoltre che, sempre nel periodo prebellico, un documentario televisivo fece luce sulla carenza di petrolio e sulla seccità dei giacimenti petroliferi del Texas, il che allarmò enormemente le famiglie americane e rivelò quanto profonda fosse la crisi energetica in cui versavano gli Stati Uniti prima della grande guerra. Tycho, un ranger del deserto ed esploratore del primo Fallout, afferma di aver viaggiato fino al Golfo del Messico, che si trova in Texas. Infatti, come gli afferma, è uno dei pochi successori dei ranger del Texas, proveniente da Oriente. Quello che, tempo fa, veniva chiamato Nevada. Impariamo abilità di sopravvivenza e combattimento per uscire nel mondo e avere possibilità di sopravvivere e migliorare le cose, dice al protagonista del gioco. John Cassidy, di Fallout 2, parla del Texas affermando che sia effettivamente sopravvissuta la grande guerra e per questo si metterà ben presto in viaggio per esplorare tali zone. Secondo il finale di Fallout 2 e Fallout Tactics, un grande esercito di supermutanti in fuga dalla California si è riunito in Texas dopo la morte del maestro, un'anticipazione alla trama del futuro Fallout Brother of Steel, che però non è a tutti gli effetti canonico, quindi effettivamente non è servita poi a molto. Qui in queste zone ci sarebbe stato infatti anche un grande combattimento tra i supermutanti, i predoni e la confraternita d'acciaio. Secondo il primo ed originale Fallout 3, noto con il nome in codice di Van Buren, la legione di Caesar avrebbe dovuto trasferirsi addirittura in Texas dopo la sconfitta di Overdam. Anche in Fallout 76 il Texas è citato da un membro della confraternita nonché ex soldato al fronte di Anchorage, ovvero Tex Rogers. Egli infatti dopo la guerra ha tentato senza successo di tornare alla propria abitazione situata in Texas, ma verrà bloccato nelle turbolente vicende in Appalachia. Infine, un dettaglio minore ma sempre interessante, in Fallout 76 scopriremo che il produttore di armi Red Raptor Firearms si trovava ad Austin, sempre in Texas. Il Commonwealth nord-occidentale era composto da Idaho, Washington, Oregon e Alaska, compresa anche la parte settentrionale della California, che venne divisa praticamente in due zone distinte, amministrate da due Commonwealth diversi quindi. L'Alaska la conosciamo molto bene, è stata il luogo di un'invasione cinese e di combattimenti molto intensi al fronte. Il 2066 fu l'inizio dell'invasione cinese e agli Stati Uniti ci vollero anni per poter respingere le truppe stealth cinesi. Ciò era principalmente dovuto al fatto che l'Alaska era una delle ultime zone sulla terra ad avere una quantità consistente di giacimenti petroliferi, in un epoca in cui il petrolio scarseggiava sempre di più. La Cina decise quindi di invadere l'Alaska sia perché ormai il rapporto con gli Stati Uniti si era definitivamente rotto, sia perché il Presidente americano aveva negato ogni richiesta di aiuto e di collaborazione per la redistribuzione del petrolio agli altri Stati mondiali. Ma a dettaglio molto importante altre guerre ce ne erano state prima d'ora, come ad esempio la guerra per le risorse tra Commonwealth europeo e Stati arabi, terminata con diverse esplosioni atomiche. Lo Stato di Washington, da non confondere con quello della capitale, che ha chiamato Columbia, è conosciuto solo per una strana storia presente in Fallout 76. Qui ritroveremo una lettera di spam proveniente dalla Rockwell Clearing House, un'azienda situata a Walla, nello stato di Washington. Tale società infatti inviava poste indesidrata in tutti gli Stati americani, cercando di truffare le persone facendo credere loro di essere idonee a richiedere un premio di 100 milioni di dollari. Escludendo inoltre molti dettagli di Fallout Extreme, titolo accancellato e non canonico, passiamo allo stato dell'Oregon, che era invece parzialmente presente anche in Fallout 2, quindi conosciamo alcuni dettagli. Anzitutto qui è presente la cittadina tribale di Arroyo, fondata dall'abitante del Vault del primo Fallout, ed è il luogo in cui si formerà e crescerà il tribale protagonista di Fallout 2. In seguito agli eventi di Fallout 2, Arroyo prospererà grazie al ritrovamento del GEC, il dispositivo di terraformazione, e ancora più in là nel tempo sarebbe divenuto un insediamento prospero sotto il controllo della RNC. Anche la cittadina di Clamat, sempre presente in Fallout 2 e citata in New Vegas, è situata in queste zone, nei pressi delle omonime cascate. Fondata sulle ceneri di Clamat Falls, capoluogo dell'omonima Contea, è una piccola comunità di cacciatori che si nutrono dei GEC della zona e sono molto apprezzati per le loro pellicce, specialmente quelle dei GEC dorati, che rivendono ai mercanti e fanno prosperare la comunità. Si tratta dunque di una comunità che è posta ai limiti della civiltà, al confine con la RNC e funge da punto di sosta per le carovane dirette ai minuscoli villaggi tribali a nord, come Arroyo. Nel non canonico Fallout Extreme, l'Oregon è la zona d'origine di un gruppo chiamato The Coast, che combatte l'oppressione della grande dittatura messa in piedi in queste zone dalla confraternita d'acciaio e anche scontrandosi contro il nuovo impero cinese, ma magari parleremo in un successivo video di questo titolo. Tornando a noi sappiamo che sono presenti in Fallout 2 anche degli strani cannibali dell'Oregon. Si trovano a nord di Arroyo e si tratta di una tribù abbastanza estesa. Basandoci sui loro dialoghi non sembrano essere un gruppo molto strutturato, ma sono molto agili e hanno un'incredibile velocità. Non hanno un quartier generale, secondo le poche informazioni che abbiamo da Fallout 2, ma si tratta di un gruppo seminomade e sono spesso armati di coltelli e lance primitive. Il loro principale obiettivo è l'essere umano, di cui si nutrono ormai da tempo immemore. Dell'Idaho non abbiamo molte notizie, tranne il fatto che, in New Vegas, se i Great Khan sono ancora alleati con la legione di Caesar, a fine gioco e triunferà la RNC, i resti della tribù saranno spinti a nord, in quelle che saranno definite come le terre selvagge dell'Idaho dopo la seconda battaglia di Overdam. Ovviamente è inutile concentrarci sulla California settentrionale, che consiste in una zona centrale nei primi capitoli di Fallout, in cui si trovano le più grandi città mai esplorate, come ad esempio Shady Sands, Sheetown, ecc. Qui conosciamo moltissimi dettagli di quello che è successo in quest'area, e dunque andiamo avanti con il prossimo Commonwealth, ovvero il Four States Commonwealth. Si tratta di una zona molto interessante ed è composta dagli stati di Colorado, Utah, Arizona e New Mexico. Quest'area ha molte citazioni, città ed eventi riscontrabili in Fallout, Fallout 2 e Fallout New Vegas, e ad avere meno informazioni di tutti gli stati è forse proprio il New Mexico. Qui sappiamo che, come afferma lo stesso Caesar, il possesso dell'area è quasi totalmente sotto la legione e anche alcuni schiavi che si possono incontrare in zona confermeranno questa sua affermazione, come ad esempio Siri, la quale dirà al Corriere di essere originaria di una piccola cittadina del New Mexico prima che la legione la bruciasse completamente e schiavizzasse tutta la sua popolazione. Anche il partner commerciale della legione, Dale Burton, conferma ciò e spiega al Corriere che il commercio con l'RNC è diventato troppo costoso, quindi per lui è diventato più facile fare affare in Arizona e nel New Mexico, zone formalmente sotto il controllo della legione. Reservation, zona militare top secret, doveva invece comparire nel cancellato Fallout Van Buren ed era situata nei pressi di Albuquerque, proprio nel New Mexico. Anche il Colorado doveva essere uno degli stati di riferimento di Fallout Van Buren, sappiamo che la legione controlla almeno la parte sudorientale del Colorado ed ha sottomesso la tribù degli Hand Dogs e la stessa città di Denver che ora è conosciuta con i nomi di Dog City e se vuoi puoi trovare il mio video sulla storia di Denver in descrizione o comunque nel mio canale. Anche lo stesso Ulysses menziona il Colorado affermando che fu proprio il legato Lanius della legione a sottometterlo. La tribù detta Twin Mothers o Madri Gemelle era assorta proprio in Colorado ed è citata anche in Fallout New Vegas. Si trattava di una tribù matriarcale, molto naturalista e nota per le creazioni di bevande a mare dagli effetti non noti, ma secondo Ulysses fu distrutta come tante altre dalla legione di Caesar. In Colorado, oltre alla città di Denver, conosciamo Canyon City che appare in Fallout Tactics. Questa città era stata riconvertita in una stazione di riparazione dei robot per conto del calcolatore, il nemico del titolo, ma poi in seguito conquistata e disabilitata dalla confraternita del Midwest o comunque da alcuni dei loro membri precipitati in queste zone. L'Arizona è un altro stato che potremmo definire in parte o quasi totalmente sotto il controllo della legione. Secondo le informazioni presenti in Fallout New Vegas, l'Arizona post-bellica era un luogo selvaggio e le bande di perdoni erano onnipresenti e molto violente. Fu in questo ambiente che Caesar, allora noto come Edor Sallow, iniziò ad addestrare le tribù locali e iniziò a costruire la sua personale legione. Anche i ranger del deserto in passato avevano una forte presenza in Arizona, ma furono respinti negli anni dalla stessa legione e alla fine furono costretti ad accordarsi e unirsi alla RNC. La stessa RNC infatti ha cercato di espandersi in queste zone, ma in Fallout New Vegas non possiede molto territorio in Arizona. Lo stesso legato a Lanius sappiamo che nacque e visse proprio in una di queste tribù dell'Arizona prima di entrare nella legione e lo stesso Raul Tejada, che ha vissuto nella città di Tucson in Arizona, racconta al Corriere che dopo la Grande Guerra lo Stato era in gran parte frammentato. Ogni città combatteva contro le altre solo per sopravvivere. Era un luogo così brutale che non era possibile commerciare con una città a due miglia di distanza lungo la strada senza essere attaccati da qualcuno e afferma suo malgrado che la presenza della legione è servita per diminuire la violenza e per portare ordine e disciplina. Infatti sappiamo che qui si macchiò di molti crimini, come ad esempio una serie di crucifissioni simili a quelle che vedremo anche in Fallout New Vegas presso l'Interstate 40 nei confronti della tribù dei Twisted Heirs. Dunque in questo ex stato prebellico sappiamo che la presenza della legione sarà stabile e duratura, tanto che addirittura la sua capitale Flagstaff, conquistata attorno al 2255 dallo stesso Caesar, si troverà proprio qui e sarà controllata dai cosiddetti soldati veterani della legione. Inoltre si trovano in questo ex stato prebellico anche la città di Bullhead, conosciuta per la strage compiuta dai predoni del Mojave contro alcuni cittadini locali della RNC, poi conquistata definitivamente dalla legione, e infine Fort Abandon, originariamente noto come Fort Aradesh, luogo che doveva comparire in Fallout Van Buren, ma reso canonico dalle menzioni in Fallout New Vegas. Si trattava di un bunker ufficialmente all'interno del territorio della Repubblica della Nuova California, forse proprio per contenere la legione ai confini tra i due stati. Nel DLC Dead Money conosceremo il Sierra Madre Hotel & Casino, situato vicino al Grand Canyon, quindi probabilmente da qualche parte in Arizona. Lo stesso Fallout Van Buren doveva essere in parte ambientato nel Grand Canyon e avrebbe presentato un'area estremamente inospitale, popolata da mutanti cannibali impazziti a causa dell'uranio rilasciato nell'area da parte delle compagnie minerarie locali. Anche lo Utah è menzionato in Fallout New Vegas e anche qui, come in Arizona, si afferma che Caesar ne controlli la maggior parte del territorio, con personaggi come Vulpes Inculta che provengono proprio da queste zone. Un resoconto di un testimone oculare di Randall Clark, che può essere trovato nel DLC Honest Earth, menziona che Salt Lake City è stata colpita da ben 13 bombe nucleari e completamente distrutta. Ma cosa nascondeva quella città per essere colpita da così tante bombe, io mi chiedo? In ogni caso, molti dei parchi nazionali sembrano invece essere stati preservati dalla distruzione delle bombe atomiche della Grande Guerra, come visto ad esempio nel DLC Honest Earth. Qui infatti prospereranno diversi gruppi tribali. Secondo informazioni provenienti da Fallout Van Buren, nel 21990, il Vault 70, situato tra le rovine della città di Salt Lake City, si è aperto e i suoi abitanti, sfruttando i tre GEC che erano stati forniti, hanno fondato tra le rovine la cittadina di New Jerusalem. Gli abitanti di New Jerusalem erano in prevalenza di credo mormone e di mentalità estremamente chiusa e intollerante, così hanno deciso di evitare ogni contatto con qualsiasi altra comunità. La cittadina era governata da un vero e proprio profeta vivente e traeva la sua principale fonte di profitto da una miniera locale. Nel 2233 un enorme gruppo, composto in prevalenza da tribali e predatori, ha attaccato e saccheggiato New Jerusalem ed era guidato da Judah Black, il nuovo autoproclamato profeta vivente, che condusse i pochi sopravvissuti nelle rovine della città di Ogden, fondando la nuova cittadina di New Canaan. New Canaan crebbe e commerciò con le tribù vicine e i suoi abitanti inviarono molti missionari in altre parti dello Utah per convertire le tribù vicine, una delle quali era proprio quella da cui proveniva Joshua Graham, il quale ci parlerà di questa storia nel DLC di Fallout New Vegas. Dunque si tratta di informazioni canoniche, seppur provenienti inizialmente da Fallout Van Buren cancellato e poi riciclate in Fallout New Vegas. Tuttavia scopriremo che New Canaan ebbe vita piuttosto breve. Caesar ben presto la attaccò e la distrusse completamente a causa della sua paranoia. Infatti in questa città prospera e laboriosa si era rifugiato Joshua Graham, ex legato della legione, dopo essere stato gettato nel Grand Canyon come esecuzione per aver deluso lo stesso Caesar in battaglia. Fu così che la legione attaccò la città, pensando di trovare Joshua ancora in vita, dato che giravano molte leggende in zona su un uomo bruciato pieno di bende. Attorno al 2281, quindi nonostante la ricostruzione della zona dopo la Grande Guerra, l'area sarà controllata da sporadiche tribù degli Zampa Bianca, ma risulterà pressoché disabitata in larga parte. L'ultimo Commonwealth che rimane da analizzare è quello del sud-ovest, composto dagli stati del Nevada, California Meridionale e Hawaii. Partendo dall'ultimo stato non conosciamo molte informazioni delle Hawaii, a parte il fatto che aveva una presenza militare consolidata della marina americana e che era attiva durante tutto il periodo della guerra sino-americana. La California Meridionale ha un ruolo fondamentale nei primi due capitoli di Fallout. Poco dopo la Grande Guerra molti residenti di San Diego migrarono verso Los Angeles a causa dei danni subiti dalla città. Los Angeles, dopo la guerra, diventerà nota come Boneyard, ovvero il cimitero, e personalmente non credo sarebbe una cattiva ambientazione per un futuro titolo di Fallout. Dopo gli eventi del primo Fallout sappiamo che il controllo della RNC in queste zone crebbe molto, a volte affermandosi anche in modo violento, fino a inglobare tutta la California Meridionale. In questo stato ritroveremo anche The Glow, un'area altamente tossica in cui era situata la base principale di ricerca della Westec sul virus Vef, il cui video puoi ritrovarlo sempre all'interno del mio canale. E fu per tale motivo che, a causa della vicinanza geografica a tale sito, San Diego venne rinominata The Glow, dopo la Grande Guerra. The Hub è un'altra cittadina postbellica molto interessante. Si tratta infatti di un grande insediamento commerciale, in cui un gruppo noto come Mercanti d'Acqua era molto influente. Qui, secondo le fonti canoniche, si diffuse il primo tipo di pagamento in tappi, anche se Fallout 76, ambientato diversi decenni prima, sembrerebbe smentire questa informazione. Comunque sappiamo che in città si crearono diverse dispute, tra cui una vera e propria Grande Guerra dei Mercanti. Quando la RNC conquistò gran parte della California meridionale, la valuta dominante si sarebbe spostata poi verso un tipo più convenzionale, sostenuto dalle riserve auree dello Stato, ovvero il dollaro della Nuova California. Anche la confraternita d'acciaio e i supermutanti della base militare di Mariposa hanno avuto origine in quest'area. Passando al prossimo Stato, sappiamo che nel Nevada vennero ambientati Fallout 2 e Fallout New Vegas, e quindi avrà moltissime menzioni e città da citare. I Desert Rangers, sopravvissuti alla Grande Guerra, erano originari proprio del Nevada, e qui, stabilirono la loro base principale dopo aver perso il controllo dell'Arizona e dello Utah a causa dello sviluppo della regione, e per contrastarla decisero presto di unirsi anche alla Repubblica della Nuova California. In questo Stato si trovano enormi città, come ad esempio Vault City, una città classista e razzista nata dai cittadini del Vault numero 8. Troveremo anche Gecko, città gestita dai ghoul, oppure New Reno, città delle star postbelliche ed edita al gioco d'azzardo quasi come New Vegas. Broken Hills era una cittadina in cui vivevano umani, ghoul e supermutanti, creata dai due amici Marcus e Jacobs, sempre presenti in Nevada. Nel DLC Lons Road, ambientato sempre in Nevada, esploreremo la zona del Divide, in cui troveremo i resti delle città di Oakville e Ashton. Le due città erano situate sopra una vasta rete di Silus per missili nucleari, costruiti dalla divisione di difesa balistica del Commonwealth in questione, e nelle profondità ospitava anche un laboratorio di ricerca sul controllo meteorologico, ovvero Big Mountain. In Nevada dunque si contraddistingue come uno stato in cui il controllo della RNC è centrale, anche se negli ultimi anni di gioco di Fallout New Vegas la pressione della Legione si farà sentire, soprattutto nei pressi di New Vegas. Cottonwood Cove, il porto controllato dalla Legione per arrivare fino all'accampamento di Caesar sulle montagne, e la stessa Nipton si trovano proprio in Nevada. Sebbene la RNC possa utilizzare le aree circostanti e la diga di Hoover, è qui che hanno incontrato e combattuto per la prima volta la Legione, interrompendo per la prima volta anche la loro espansione dopo la battaglia di Hoover Dam. Bene, siamo giunti alla conclusione del video. Questa è la lore ufficiale pre- e postbellica di tutti i 50 stati americani dell'universo di Fallout. Fammi sapere se ho dimenticato qualche informazione sui diversi stati. Ovviamente ho cercato di dare maggiore importanza a quelli meno conosciuti, soffermandomi di meno sugli stati più famosi come California, Nevada, Massachusetts, West Virginia e il distretto della capitale di Washington, in cui siamo abituati a giocare nei diversi titoli di Fallout. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, lascia un like di incoraggiamento e condividilo con tutti gli interessati della saga. Un saluto e a presto, caro abitante del Vault.